...diciamo a mettere in marchio Made in Italy e che siano italiani a farlo, eh? Ok, secondo me. Allora, vi voglio presentare qui con me, vieni, eccola qua Luigi Drani, eh? Ecco qua, allora, diamo, eh, ma scusa un po', ma questa ragazza ha fatto nottata, perché mi sembra che se la dorme, sta così, tutta sognata, o si è fidanzata? Devo dirlo? Dillo? Cioè, io la vedo la sera, in discoteca, tutta... Ecco, infatti, ecco, bravo. Ecco, poi si vede passare qualcuno che... Alle due e mezza era ancora con noi in giro, c'è una ragazza di dietro che era con noi ieri sera, sono andata ai tre e mezza ieri sera. Ecco, mi ha detto che facevo il Bravo ieri, ti l'ho detto, io sono andata a Tre e mezza. Invece di pensare a Italia Amica, parli nottanti. No, noi siamo andati fino ai tre e mezza a parlare di Italia Amica, infatti vedi che lei oggi è qua preparata. Sei, 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 sei te. Come ti chiamano a casa? Gino. Ecco. Eh? Eh, lì dietro. Eh, allora, Gino, Gino, non raccontarci, tu vai sempre con queste belle ragazze in giro. Ne ho poche, adesso ne hai vista una. Poi c'è un'altra lì dietro che... No, noi chiamo papà e mamma che davvero sono, veramente con gran fatica portano avanti il macchio italiano. Devo portarlo avanti perché comunque... Quindi, Franco Celeste, grazie. E grazie anche per il cuore in pelle, Celeste, grazie. Allora... Giusto? No, dobbiamo portarlo avanti perché comunque è un'arte, il Medietà è un'arte, come loro cantano benissimo in italiano, giusto? Loro fanno Bezzi sin fiori in italiano, in italiano le facciamo, in italiano le facciamo, lì si taglia i capelli in italiano di là e di là. No, però, un attimo, noi siamo latinezza sul mondo, ci mettiamo con amici, quindi, per la carità, ben venga, io, ad esempio, spesso vado anche a mangiare la cucina cinese. Buonissima. Adoro la Russia, ma per tante altre cose. Io le russi, io le russi. E dico made in Italy, deve essere, secondo me, italiano. Beh, certo. Non si può, no? Ecco. Giusto. Quindi, insomma, il governo speriamo che ci sostiene queste piccole ditte e non ci fa davvero floppare sotto. Che ci aiuti? Ma io dico che con la volontà abbiamo creato Irte, da un'idea, italianica, Dream, Milano. Allora, facciamo sfilare un attimo queste bolle. Ah, ok. Un po' di musichetta, qualcosa, non c'è? Vabbè, la faccio io. La 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 la. No. La 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 la. Ecco la bolla, prima volta. Prima ragazza, io le ho risposto di qua. Oh, allora, mi metto di qua. Guarda, qua mi metto. Cos'almeno le guardiamo tutti insieme. Ecco. Qui mi hanno tirato, il marchio è Italia Amica, però la cosa bella è questo anche, Dream Milano. Quindi abbiamo fatto, abbiamo fatto un connubio, abbiamo fatto un mashup, perché comunque siamo qua nella musica, quindi siamo mashup, di creare alcuni pezzi di borse per portare il tuo made in Italy, il mio made in Italy, la mia idea, la tua idea, nelle case delle persone, addosso le persone. Oggi e ieri, dai dillo, ieri e oggi. E dillo, tanto lo sappiamo già. Ma no, stai, 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 allora, ieri, prima e io dopo. Ecco, tutto, ma per appunto adesso acquistare queste borse, ma è bellissimo. E poi è proprio pelle. Questa è pelle, allora, le pelle che vanno dal vitello a lo Sky, abbiamo il stampa cocco, abbiamo tutti i materiali che comunque chiunque vuole, perché abbiamo anche il camoscio, che comunque abbiamo qualche borse anche dietro. Perché tu mi hai fregato una modella, perché avevo tutto calcolato. Ma io sconvolgo, ecco. No, 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 quella non ha detto niente, però c'era l'ultima che comunque doveva avere le borse anche in camoscio, però poi facciamo anche comunque borse ecologiche, perché comunque... Perché certo, ma lo diciamo, però non vendiamo la pelle per un'altra cosa. No, 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 assolutamente no, no, perché comunque... Con tutto l'amore che abbiamo per gli animali, però se diciamo che questa è pelle, è pelle. E il made in Italy che noi abbiamo è, vieni a casa mia, vedi che la faccio io, oppure vieni e la fai con me, e quella è il pomeriggio di me. Esatto. Ah, lui lo fa... E certo, ma ce la metti tutta per farlo da sola. Dai, da solo, voglio dire. Vabbè, dai, non ti lanciare troppo. Allora, dove le trovo? Allora, noi abbiamo il sito, noi abbiamo Facebook Italia Amica. Sì. Ok? E Facebook Dream Milano. Ecco. Loro possono richiedere Italia Amica Dream, tranne o Italia Amica... O Dream Milano. O Dream Milano. Poi basta un like. Nelle prossime puntate successive avremo il numero di telefono, quindi stiamo creando anche un marchio da vendere online, perché ora, no? Perché vogliamo portare in Italia e nel mondo, e a casa delle persone, e addosso alle persone, anche un prodotto italiano, fatto da voi. No, lui stava guardando le modelle. Eh, eh. Io lo controllo. No, lui aveva anche il contatto Facebook delle modelle. Allora, ascoltami, più o meno su che budget, perché so che ancora non è questa doppia cerniera. Questa, allora, questa è quella un po' più, diciamo... Ma è una borsa organizzata, perché comunque la puoi usare per andare fuori al cinema, per andare a lavorare, poi...